Si chiama Insieme cerchiamo l'invisibile, il titolo di presentazione del calendario 2023 della Lilt, leghe italiana per la lotta ai tumori, che vedrà protagoniste le pallavoliste dell'Alba Verde e Caltanissetta. È un invito alla prevenzione affinché entri nella quotidianità di ciascuno con normalità. Si terrà sabato 17 alle ore 10 nella sede della Lilt in viale della Regione 30 la presentazione del calendario dove vengono immortalate le pallavoliste dell'Alba Verde e i fondi verranno finalizzati all'acquisto di nuove strumentazioni diagnostiche. Alla presentazione prenderanno parte il presidente della Lilt di Caltanissetta Aldo Amico, la presidente dell'Alba Verde Caltanissetta Oriana Mannella, l'assessore regionale alla salute Giovanna Volo e l'assessore comunale Cettina Andaloro.